Io mi trovo in imbarazzo perché in qualche modo rappresento lo Stato, è uno Stato veramente democratico quando capisce di aver sbagliato facendo accertamenti rigorosi interviene e fa polizia. Mi ha insegnato Giovanni Falcone che quando al vertice di amministrazioni, soprattutto pubbliche, si trovano cretini è perché a governare governa la mafia. Io però non penso che ci siano cretini, penso che ci sia molto spesso, più spesso di quanto non si possa pensare, persone che non hanno il coraggio di affrontare la realtà. In questo Paese ci sono tanti che sbagliamo, perché anche io sbaglio cento volte al giorno, ma se fossimo una comunità attraverso un reciproco aiuto potremmo correggerci e far sempre meglio. Quello che è stato fatto non soltanto a Stefano, ma anche e soprattutto ai genitori di Stefano alla sorella di Stefano, agli amici di Stefano non grida vendetta, veda piuttosto giustizia perché sono cose ben diverse vendetta e giustizia e fa capire ancora quanto noi si abbia da fare. Chi mi ha preceduto parlava dell'intangibilità del corpo. Io ricordo che Piero Grasso, quindi una persona a me politicamente anche distante, ricordando quando ha dovuto ricevere Fiordi Cosa Nostra appena arrestata, l'ha sempre messa in una condizione di non potersi minimamente lamentare perché rappresentando lui lo Stato doveva far capire la differenza fra l'antistato che tratta da bestie perché è bestia e lo Stato. Lo Stato è veramente tale quando rispetta. Stefano e tutti e tutti quelli che in qualche modo come Stefano hanno subito le angherie del potere dello Stato, Stefano non è stato rispettato. Allora la speranza è che anche a livello giudiziario, ed è proprio su quello che bisognerà insistere, le verità che stanno emergendo in dibattimento vengano sempre più ripetute, ribadite, affinché come pietre che rotolano divengano una valanga contro cui nessun muro d'omertà possa resistere, perché purtroppo ancora oggi c'è tanta tanta omertà. Io non mi sento di aggiungere altro se non massima vicinanza a tutti quelli che si sono spesi in questi anni per la memoria di Stefano e vorrei anche concludere con una cosa. Io provengo da una civiltà che è ancorata a valori contadini. Per me è fondamentale piantare alberi perché l'albero dà l'idea della continuità che attraversa il tempo. Noi siamo sempre più schiacciati in un presente che di fatto annullando altre dimensioni ci nega identità perché ci nega tempo. Se noi tornassimo alla cultura degli alberi, noi rifiuteremmo qualunque forma di violenza e lasciatemi anche dire, rifiuteremmo anche tante forme di evasione che inducono dipendenza perché la tragedia di questo mondo, di questa nostra società è non trovare soddisfazione in ciò che viviamo. Siamo però noi che scegliamo le persone con cui dividere il nostro tempo. Siamo però noi che scegliamo le attività da portare avanti. Se qua ci sono delle persone è perché hanno deciso di esserci sottraendosi ad altro che avevano da fare. Il vero problema sono tanti tanti altri che magari continuano a fare quello da cui si potevano liberare.